Non basta una prodezza di Gaetano Monachello ad avvio di secondo tempo per fare lo sgambetto. Al Bologna la squadra di Lopez fa sfuriare il Lanciano e a sesta un 1-2 devastante in 8 minuti con il calciatore più importante dei Felsinei, l'attaccante Caccia. Eppure, occasione alla mano, il Lanciano avrebbe avuto diverse possibilità nell'arco dell'intera contesa per amplificare la marcatura dell'attaccante. A Grigentino la differenza dunque l'ha fatta, chi ha centrato di più la porta e ha commesso meno errori, ergo il Bologna. Mastica amaro il Lanciano, una sconfitta dal sapore amaro per i Frentani, un successo che invece lancia in orbita alla squadra di Lopez. D'Aversa deve rinunciare a Bacinovic nel ruolo di playmaker ed ecco Davide Agazzi che scende per la prima volta in campo da titolare con Paolo Grossi riproposto nell'undici iniziale. Le scelte daranno ragione a D'Aversa, poi uscirà Monachello, febbre per l'attaccante Agrigentino e la manovra d'attacco dei Rossoneri perderà qualcosa. Il prologo della contesa va comunque sottolineato. Commovente il gesto del capitano bolognese Garix che deposita sotto la curva sud un mazzo di fiori in memoria di Lorenzo Costantini. Il giovane ex capitano della primavera rossonera scomparso il mese scorso. Al primo acuto il Lanciano ha subito l'occasionissima per sbloccare la contesa. Occasione a dir poco d'oro. Calcio di rigore perché Piccolo lancia Gatto che si allunga la palla ma Coppola lo atterre per Gherzini. Non ci sono dubbi. Massima punizione dagli undici metri. Si presenta Piccolo ma la sua conclusione si spegne fuori dalla porta alla sinistra di Coppola. Il Bologna si fa vedere per la prima volta con un tiro di Masina ma Nicolás c'è. Ancora Bologna questa volta con l'ex Casarini che lascia partire un tiro che costringe Nicolás all'intervento provvidenziale in corner. Poco dopo un'indecisione difensiva del Lanciano dagli sviluppi di un corner poteva costare caro alla retroguardia rossonera ma in qualche modo i frentani salvano. Il Lanciano c'è Piccolo. Ispirato nonostante l'errore dagli undici metri prova a dipingere una traiettoria insidiosa a giro che però si spegne di poco al lato della porta difesa da Coppola. Il Bologna si rifarà vivo al minuto 32. Gross dalla sinistra di Masina per Zucculini di testa ma la palla termina di poco. Sul fondo il Lanciano di avvio e ripresa è determinato e soprattutto deciso. Al settimo la gara si sblocca. Cross di Grossi uno dei migliori in campo che mette al centro dell'area un pallone difficile da controllare ma controllato alla perfezione da Monachello che inventa un tiro a volo imparabile per Coppola. Ancora Monachello che ispira il potenziale raddoppio mettendo la palla al centro dell'area di rigore per Gatto che deve solo spingerla in rete però l'attaccante calabrese incredibilmente si fa respingere un tiro ravvicinato dal portiere bolognese. Gol sbagliato, gol subito, regola del calcio non scritta applicata al guido biondi alla perfezione dal Bologna che nel giro di otto minuti ribalta a proprio vantaggio la gara. Cross di Masina rimpallo in area ed ecco Caccia che in spaccata spedisce la palla in rete. Siamo al minuto diciannove al ventisettesimo il numero nove del Bologna si ripete. Cross Caccia supera Ferrario anticipandolo e manda di testa in rete il gol dell'uno a due e la nona volta che il Lanciano incassa un gol dagli sviluppi di un corner il Bologna controlla e avrebbe anche l'acuto per affondare il Tris con Caccia dal limite dell'area ma la sua conclusione finisce di poco al lato della porta di Nicolas. La Virtus ci proverà fino alla fine ma il risultato non cambierà e adesso testa al calciomercato e gambe che inizieranno a parlare nuovamente il linguaggio del campo il 17 di gennaio.